Allora gaga, gaga questa è quella nostra partita, eh? La nostra partita. Riscaldiamoci che è importante Vai, c'è un po' di kill, c'è un riscaldamento No, io non ho già morto, no, 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 no! Ma è solo un riscaldamento, tranquilli, è solo un riscaldamento, che ti cazzi così? È solo un riscaldamento, ma... COSAAA? a 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 Non abbiamo perso la partita Va bene, ormai finì, ormai finì Non ho fatto il successo Ehm, ma che cosa sto dicendo questo? Buongiorno La cosa stai dicendo questo? Puoi parlare inglese? Non lo so che ho parlato Puoi parlare inglese? Non ho l'hai sentita Puoi chiedere? Prendi qualcosa, c'è niente A l'incidencia A l'incidencia A l'incidencia A l'incidencia Chiudi, chiudi, chiudi... Nessui zui. Come un canale, si subi, si subi... Come un blu, portaino, portaino... Guardi che non. Poteteoke clicca con gli studenti juzghi... Imordiamo particolarmente. Blu, portai diciamo sincero... Perfiliamo le CRUunter. Cia si assunta др局jin. questo è un swish! è un swish! 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 Hi ragazzi, posso senti? man, posso senti? hai mic, man? ma che f***? ma che f***? di c***o così a caso, ma dalla parte opposta così, gioca da solo sicuritiere a caso, poi non parla senza microfono, can you hear me man? ecco non l'avrei mai detto fosse morto oh, you are dead oh my god ma questo qua poverino può rispawnare siamo su rivers island ma questo qua poverino sarà uno che avrà aperto warzone da due giorni sa nemmeno che si può rispawnare gratis ma che palle oh ragazzi, puoi senti? what the f***? puoi senti? ogni cosa che posso fare tanto ormai è così che va ogni partita eh no ragazzi, puoi senti? eh no, eh no ma che c***o va? ma che c***o va? ma questo si fa i rasponi sul microfono ma che c***o? ma questo si fa i rasponi sul microfono ma che c***o? questo qua, boh sta giocando dietro ad un bar non si capisce ma che c***o? ma che c***o? oh c***o puoi senti? puoi senti? puoi senti? man, puoi senti con te su un cuore ma che c***o? ma che c***o? ma poi non senti un c***o cioè, arrivo uno e mi fitte grazie al c***o, grazie a c***o mi so qua che boss che microfono ha esistito? Ma è da denunzare che hai cazzo il microfono, ma chi è? Please shut up man! Man, please, mute yourself! Ma perché l'ho mutato e lo sento comunque? L'ho mutato e lo sento comunque! Ecco, ci mancava sulla musichetta di merda! Dai, please man! Che cazzo? Che male alle orecchie! Ma che cazzo man, please, mute yourself! Che cazzo devo dire? Buona! Ma non mi sento comunque, è una tortura! È una tortura! Mi persegui? Oddio, perché nella mia lobby? Eh... Via! Lo sento comunque! Ma che cazzo? Ma non... È sul mio Discord! Oh, già il loadout, perfetto, bene! Eh... Eh... È un italiano, bravo! Un cazzo di idiota! Ma che cazzo vai con il... Scusa, io sono uno stronzo di merda! Pure con la stordente, ma che cazzo... Cambiati arma, prendi il mio fafar! Prendi! Prendi il mio fafar! Ti scongiuro! Ti scongiuro! Ti scongiuro! Ma che cazzo! Ti rendi conto di quanto fai schifo? Ma fai schifo! Perché? Io sono un pezzettino, è quello che faccio! Guarda, mi ultimo l'angolino! Ma... No! Lasciami morire! Lasciami morire! Dovevi... L'ho ucciso! No! Dovevi lasciarmi morire! Eh, non dita che... Ciao, ciao a tutti! Hi man! Ehm... Ok, ok, ciao fra... Ehm... Pieni partire, no? Ma se... Qual è il tuo Ratio Killmorti? Ratio Killmorti? Sì! Ehm... Non ci guardo io a quelle ro... Cioè, non so nemmeno dove si guarda! Che è successo? Che vedo tutto fermo? Che cazzo è successo? Mi ha crashato tutto! Non mi va più il wifi! Non sto scherzando! Non si connette mai! Ma che cazzo è successo? Come si può... Così mi fai, bastardo? Cosa? Sono stato io! Sono stato io! Perché non mi ha tirato i Killmorti! Siccome non avevo preso tempo! Oddio, aspetta! Sei quello di prima? Che mi ha crashato i Killmorti? Perché non mi ha tirato i Killmorti! Se no, non ho giocato con te! Un po' di merda! Cioè, quindi... Mi sei... Ma come... 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 Come posso sentirti? Mi senti! Ma... Ma che cazzo? Me ne frega dei Ratio Killmorti! Perché se tu... Non mi cittate chi è Killmorti? Io li scriverai con un Nabbo! E mi rovinò la partita nuova! Perché tu non li scriverai con un Nabbo! Sei forte! I Nabbi con i Nabbi! Forte ogni forti! Punto! E... Dimmi... Tu che classe usi? Io sconti sono mosse sordente! Hai problemi? Anche? FI. Naaaa! Grazie per la visione!